Quanti sono i volti della sostenibilità? Cosa significa impegnarsi per lo sviluppo sostenibile? Salvaguardare l'ambiente e valorizzare il capitale naturale pensando alla salute delle persone del pianeta. Fare scelte d'acquisto consapevoli e adottare stili di vita e di consumo responsabili. Rendere le città luoghi dove l'attenzione al benessere delle persone è al primo posto. Nutrire i talenti, motivare e coinvolgere i collaboratori per migliorare la loro vita ma anche la competitività dell'impresa. Rafforzare la collaborazione con i fornitori per rendere la filiera sempre più sostenibile. Investire nelle imprese che credono in un'economia che considera importanti anche gli aspetti sociali e ambientali. Ecco gli ingredienti per uno sviluppo sempre più sostenibile. Non perdere l'appuntamento con l'ottava edizione del Salone della CSR e dell'Innovazione Sociale il 29 e 30 settembre 2020 in diretta streaming.